La forza delle parole scritte. Vi raccontiamo l'esperienza del corso di scrittura terapeutica. Siamo un gruppo di donne che hanno incontrato e si sono dovute confrontare con la malattia oncologica. Tra gennaio e marzo 2022 abbiamo partecipato al corso laboratorio di scrittura terapeutica che viene offerto annualmente da Avapomestre. Guidate da un'esperta terapeuta, abbiamo conosciuto persone con le nostre stesse ferite che avevano bisogno di un aiuto per affrontare nel miglior modo possibile il proprio vissuto difficile e doloroso. Insieme abbiamo scoperto, apprezzandolo sempre di più, il potere della parola scritta e la sua capacità rigenerativa. Sono stati appuntamenti settimanali che molte di noi aspettavano sempre con maggior desiderio. Si stava bene, anche se guardarci dentro non è un risultato sempre facile. Tutte però, alla fine, ci siamo convinte che il laboratorio ha rappresentato un'esperienza importante e positiva. L'esperienza del laboratorio consiste in scrivere di sé, per sé, al fine di approfondire, quasi in una sorta di viaggio, la conoscenza del nostro mondo interiore. Mettere nero su bianco ciò che si prova per scaricare il peso che ci si porta dentro, le nostre fragilità, i nostri sensi di colpa, ansie e dolori, come se non ci appartenessero più. Scrivere di getto senza preoccuparsi della coerenza, degli errori, della forma e della punteggiatura, sapendo che le parole su carta possono essere rilette più volte, ma anche abbandonate. Lasciare andare la mente, senza essere giudici severi di se stessi, mossi solo da un agire spontaneo e liberatorio che consente il fluire del pensiero. Donare, infine, se lo si desidera, le proprie parole scritte al gruppo che lo accoglierà, senza pregiudizi o critiche, rifacendosi all'affermazione «Condividere aiuta» di Sonia Scarpante, fondatrice del metodo della scrittura terapeutica. Sulla scorta di questa affermazione vogliamo condividere alcune parti dei nostri elaborati che ci hanno aiutato nel nostro percorso. Prima rosa Il corso di scrittura terapeutica è stata un'opportunità che ho colto con molto interesse e curiosità. Ho sempre pensato di non saper scrivere. Mi metteva paura e insicurezza a intraprendere questo viaggio di scrittura. Invece mi sono trovata che ho scritto di me e della mia famiglia. Mi sono accorta che ce la si può fare, anche senza essere perfetti. La perfezione non esiste. Le ferite, le cicatrici del corpo e dell'anima, causate dalla nostra storia personale e dalla malattia, possono anche rappresentare un momento di crescita ed evoluzione della persona. Basta essere noi stesse, non mascherarci e divenire sempre più consapevoli. Ho conosciuto anime belle in questo lavoro di gruppo. Ci ha guidato in questo percorso Lucia, psicologa-psicoterapeuta di Ava Pomestre. Abbiamo riflettuto con il suo supporto su alcune dinamiche che ci accadono dopo un dolore, sulla paura di morire, perché il cancro è una malattia che ti mette alla prova e a volte alla porta. Speranza A conclusione di questo percorso, sebbene abbia vissuto delle forti emozioni, ho capito che condividere dolore e ansia con altre donne aiuta e ti dà forza. Emma Il laboratorio mi ha fatto ripensare a tante cose, passate e presenti, che mi hanno toccato il cuore. Aver condiviso con delle compagne questi momenti mi ha fatto capire che non siamo mai sole e che troppo spesso non ci fermiamo a pensare a noi, perché abbiamo sempre qualcosa di più importante da fare. Noi donne siamo sempre prese da molteplici impegni, dal lavoro, dalla famiglia, costrette a ritagliarci con grande difficoltà uno spazio per curarci e soprattutto volerci bene. Se non ci vogliamo bene e non ci ascoltiamo, non possiamo stare bene con noi stesse e soprattutto con gli altri. Dobbiamo sviluppare un sano egoismo che ci permetta di fermarci a pensare e capire cosa dobbiamo fare per vivere serenamente, senza restare presi in pensieri negativi. Olivia Ho sempre pensato che avrei potuto cavarmela da sola, questa volta però ho capito che dovevo chiedere aiuto. Mi sono iscritta al corso di scrittura terapeutica con scetticismo, invece sono stata travolta da emozioni che non immaginavo. Non vedevo l'ora che arrivasse il lunedì per ritrovarmi con il gruppo e mi preoccupavo se qualcuna non c'era. Mi mancheranno questi incontri che trovo mi abbiano aiutato molto. Raccontarsi, sapendo che nessuno t'avrebbe giudicato, consigliato, applaudito, è stato liberatorio. Mi sono sentita leggera come una piuma. La nostra terapeuta ha saputo guidarci durante tutto il percorso. Spero proprio di poter ripetere questa esperienza. Lariska Lariska Ciao, mi chiamo Lariska. Mi chiamo Lariska. Io nella mia vita non ho mai fatto un incontro con uno psicologo o un percorso con delle persone che non conosco. Sono nata e cresciuta in un paese della ex Unione Sovietica. La mia educazione mi rende chiusa di carattere e brusca. Però posso dire che questo percorso della scrittura mi è piaciuto tantissimo, anche se non sono mai riuscita a scrivere nulla. Ma ascoltare anche le altre persone che raccontano la loro storia di vita e confrontarsi è un bene per l'anima. Ho capito una cosa, che non è mai troppo tardi per ricominciare con i tuoi figli, con le persone che ti sono vicine. Di poco, ma sono riuscita ad aprirmi anch'io. Anche per me è un bel traguardo. C'è da lavorare ancora tantissimo, ma la cosa importante è che l'ho capito. Letizia Con molto piacere voglio lasciare due righe sull'esperienza del mio corso di scrittura terapeutica. Un'esperienza splendida in tutti i sensi. Ho incontrato persone che mi hanno insegnato molto con i loro vissuti di malattia oncologica e con le loro esperienze di vita. Insomma, un frullatore di emozioni che mi hanno fortificata e mi hanno dato pure pace. Sì, una pace interiore, che avevo bisogno di ritrovare e che grazie a questo corso ho ritrovato. Non avrei mai pensato di riuscire ad esprimere tutto ciò che mi ha fatto molto male tramite dei racconti scritti, che poi sono diventati momento di confronto con le mie compagne di viaggio e la splendida psicologa Lucia, che ci ha guidato. Grande punto di riferimento in questa bellissima avventura. Mina Ho iniziato il ciclo di incontri di scrittura terapeutica il 24 gennaio 2022 con molto entusiasmo, ma anche con molta ansia. Il primo incontro è stato faticoso, difficoltà nel presentarmi, perché essendo una persona che si commuove facilmente, già sapevo come sarebbe andata a finire. Negli incontri successivi ero più rilassata. Non ho mai letto nulla dei miei scritti, una barriera che non ho saputo superare. È un corso dove le emozioni non mancano, si accavallano. Tristezza, ansia, malinconia, gioia, rabbia, risa. Un corso dove ci si racconta, dove si ascoltano le storie delle altre compagne di percorso, dove alla fine prendi consapevolezza che non sei l'unica. Sei una delle tante che deve trovare la forza di combattere quello che è stato, quello che purtroppo è e quello che forse sarà. Può sembrare una magra consolazione, ma almeno non ti senti sola. Una cosa è certa. Su quel cesto immaginario posto al centro della sala ho svuotato un po' del mio malessere. Certo, rabbia e malinconia fanno ancora parte di me. Devo ammettere, però, che l'ultimo giorno di corso sono uscita da quella stanza più forte rispetto al primo incontro. Anita Di questo corso mi porto a casa un grande insegnamento. Non giudicare il prossimo, perché ognuno di noi ha una storia che gli altri non conoscono. E andare oltre le apparenze, perché anche le persone che sembrano più dure possono nascondere delle grandi fragilità. Angela Trovo che parlare a me stessa, scrivendo, mi schiarisca le idee. Un po' di nebbia si dirada. Di sicuro mi aiuta e mi rinforza. Mi fa prendere la distanza dal dolore e dalla paura. Anche i racconti delle mie compagne di corso mi hanno fatto crescere. Da quelli, oltre alle difficoltà della vita, traspiravano una forza e una resilienza contagiose. Questo laboratorio, per me, è stata un'esperienza benefica. Mi ha fatto scoprire quanto siano forti le donne che si guardano dentro per stare meglio. Sono contenta di averne incontrate e le ringrazio tutte, di cuore. Grazie. Grazie.